Buonasera a tutti e benvenuti alla prima serata del corso base di editing video con software libero. Il corso intende fornirvi tutte le nozioni basilari per essere in grado di editare il vostro materiale audio video e fotografico per realizzare un video adatto ai vari dispositivi di riproduzione e online. Gli argomenti saranno trattati dalle basi per essere compresi anche a chi non ha alcuna familiarità dell'argomento. Di cosa andremo a parlare? Riprese audio video, scatti fotografici, computer, software di montaggio non lineare, monitor audio o cuffie, microfoni opzionali, monitor per pc, fondamenti di ripresa. Le fondamenta della ripresa video rappresentano il nucleo della produzione video, fornendo le basi su cui si costruiscono tutte le altre fasi del processo. Queste fondamenta comprendono aspetti chiave come la composizione, l'illuminazione, la messa a fuoco, l'inquadratura e il movimento della telecamera. In questa relazione esploreremo dettagliatamente ciascuno di questi elementi fondamentali delle riprese video. Composizione. La composizione si riferisce alla disposizione degli elementi all'interno del fotogramma e alla creazione di un'estetica visiva efficace. Alcuni principi di base della composizione includono la regola di terzi, dividere il fotogramma in una griglia 3x3 e posizionare gli elementi chiave lungo le linee e nei punti di intersezione. Bilanciare l'inquadratura. Assicurarsi che gli oggetti siano bilanciati e che non vi siano elementi di disturbo. Profondità. La profondità in una composizione è un altro aspetto chiave. L'uso di oggetti in primo piano, secondo piano e terzo piano aggiunge profondità all'immagine, conferendo una sensazione di tridimensionalità. Inoltre, il concetto di linea guida è importante. Le linee guida visive, come strade, archi o sguardi di persone, possono essere utilizzate per guidare l'attenzione dello spettatore e creare una connessione emotiva con la scena. Illuminazione. L'illuminazione è cruciale per ottenere riprese di alta qualità. Alcuni concetti importanti includono la luce naturale e artificiale. La luce naturale offre spesso una tonalità calda e morbida durante le ore del giorno, mentre la luce artificiale può essere regolata per ottenere l'effetto desiderato. Controllo delle ombre. La direzione della luce può creare ombre interessanti e definire i contorni dei soggetti. Luce dura e morbida. La luce dura crea ombre marcate, mentre la luce morbida offre transizioni più graduali. Nel controllo delle ombre è importante considerare come le ombre influenzino l'aspetto generale delle scena. Troppo spesso ombre indesiderate possono creare un'immagine poco attraente o addirittura disturbante. La scelta tra luce dura e morbida dipenderà dal tipo di atmosfera che si desidera creare. La luce dura con ombre marcate può essere utilizzata per drammatizzare una scena, mentre la luce morbida con transizioni più graduali è ideale per un aspetto più liscio e naturale. Messa a fuoco. La messa a fuoco è essenziale per garantire che il soggetto sia nitido e ben definito. Alcuni aspetti chiave includono. Punto di fuoco. Selezionare il punto in cui si desidera che la telecamera sia a fuoco. Profondità di campo. Controllare se il background è sfocato o nitido. Follow focus. Usare sistemi di messa a fuoco per mantenere il soggetto a fuoco durante il movimento. Inoltre è importante comprendere il concetto di profondità di campo, ovvero quanto dello sfondo è sfocato o nitido. La profondità di campo può essere regolata modificando l'apertura del diaframma della telecamera. L'uso del follow focus è comune nei set professionisti. Questo dispositivo consente di regolare la messa a fuoco in tempo reale durante le riprese, garantendo che il soggetto rimanga sempre nitido anche se si muove o si avvicina alla telecamera. Inquadratura. L'inquadratura si riferisce alla porzione di scena catturata nella telecamera. Alcuni tipi comuni di inquadrature includono. Inquadratura stretta. Focalizzarsi sul volto o su un dettaglio specifico. Inquadratura media. Includere il soggetto dalla testa alla vita. Inquadratura ampia. Catturare l'intera scena. Prospettive. Variare l'angolo da cui si riprende per creare effetti visivi interessanti. L'inquadratura è un altro elemento chiave nella creazione di una ripresa video efficace. Oltre ai tipi di inquadrature menzionati precedentemente, è importante comprendere le prospettive. Variare l'angolo di ripresa può creare effetti visivi interessanti. Ad esempio, un'inquadratura dal basso può far sembrare un soggetto più imponente o dominante, mentre un'inquadratura dall'alto può renderlo più vulnerabile. Movimento della telecamera. Il movimento della telecamera aggiunge dinamicità e profondità alle riprese. Alcuni tipi comuni di movimento della telecamera includono panoramica, ruotare la telecamera da sinistra a destra o viceversa, inclinazione, inclinare la telecamera verso l'alto o verso il basso, traveling, spostare fisicamente la telecamera da un punto all'altro, zoom, modificare l'ingrandimento della lente per avvicinare o allontanare il soggetto. È importante notare che le fondamenta della ripresa video sono strettamente interconnesse e richiedono pratica per essere padroneggiate. Inoltre, la storia e la comunicazione del messaggio sono altrettanto importanti quanto l'aspetto tecnico delle riprese. Un buon regista o operatore di telecamera deve equilibrare questi aspetti per creare una produzione video coinvolgente e professionale. In conclusione, le fondamenta delle riprese video costituiscono il fondamento su cui si basa qualsiasi produzione video. Comprendere e applicare correttamente i principi di composizione, illuminazione, messa a fuoco, inquadratura e movimento della telecamera è essenziale per catturare immagini di alta qualità e trasmettere efficacemente un messaggio. Gli strumenti da usare. Per ottenere un prodotto di buona qualità in tempi accettabili, dobbiamo, riassumendo brevemente, avere buone competenze sulla ripresa, conoscere gli strumenti che utilizziamo e sull'editing, conoscere i software, l'hardware e le basi del montaggio video e audio. Non curarne solo uno di questi aspetti potrebbe compromettere il lavoro finale o allungare oltremisura i tempi di montaggio e o di rendering. Questo corso non si prefigge di insegnare tutto, ma di fare una panoramica sui principali aspetti. Usare lo strumento più adatto. Se possiamo scegliere tra più dispositivi, smartphone, DSLR, action cam, videocamera professionale, cerchiamo quello che abbia la risoluzione maggiore, la lente più adatta, il frame rate più alto, maggiore autonomia di ripresa. Ad esempio, se dobbiamo fare delle riprese in movimento, bici, eventi sportivi, eccetera, potremmo preferire un dispositivo che ci consenta di impostare un frame rate più alto. Se dobbiamo riprendere una manifestazione all'interno, potremmo preferirne uno che abbia una lente grandangolare che ci consenta di avere un'inquadratura più ampia. Se stiamo filmando un particolare, uno con una risoluzione e pulizia maggiore. Se l'evento si prevede duri e lungo, assicuriamoci che il nostro dispositivo si possa alimentare dalla presa elettrica o abbia sufficiente autonomia. Per quanto riguarda gli scatti fotografici, sono da preferire quelli in formato RAW a quelli compressi come il JPEG. I componenti del computer non influenzano la qualità del prodotto finale, quanto i tempi di montaggio ed esportazione, che in talunni casi scoraggiano l'utente ad affrontare tale lavoro. Sono disponibili molti software, anche blasonati, di montaggio video. Noi tratteremo però solamente quelli open source e free software. L'esperienza di questo corso però vi darà le competenze per usare quasi in modo indifferente ogni programma di video editing, anche quelli commerciali, ed ottenere comunque un ottimo risultato. Editare correttamente anche la parte audio è un fattore essenziale per la buona riuscita del vostro lavoro. In tali casi potrebbe essere necessario procurarsi dei microfoni aggiuntivi a quelli presenti nel dispositivo di ripresa. Potrebbe quindi servirvi ad esempio un lavalier per registrare il parlato di un relatore distante dal punto di ripresa, oppure un microfono panoramico per ottenere l'ambiente della location. È altresì importante l'uso di un monitor audio, casse acustiche, di buona qualità per non rischiare di sballare i parametri, causa una risposta non lineare in frequenza durante il montaggio del video. Anche l'uso delle cuffie può rivelarsi vincente in post-produzione, a pato che siano anch'esse di buona qualità. Non ultimo il monitor sul quale andremo a visualizzare e montare il tutto. Il consiglio è quello di acquistare l'apposito calibratore che setterà correttamente tutti i parametri relativi alla luminosità e ai colori del vostro monitor. Fortemente consigliato anche il secondo monitor per avere più spazio di lavoro normalmente dedicato all'anteprima. Usare uno stativo Sembra banale ma le riprese traballanti sono molto fastidiose e la stabilizzazione in post-produzione crea comunque un abbassamento della qualità del prodotto finale. Tenere presente che le riprese eseguite con una lente grandangolare sembreranno molto più stabili di quelle eseguite con un teleobiettivo. Settare correttamente la camera. Ci sono molte opzioni nei menu degli apparecchi di ripresa che non sempre hanno impostazioni corrette di default. Ad esempio il bilanciamento del bianco, l'autofocus, il profilo colore. Errori di tali impostazioni sono più evidenti nei casi in cui andiate a montare delle clip provenienti da dispositivi settati non in modo omogeneo. Sono quindi da preferire il fuoco fisso, manuale, all'autofocus. I profili colore piatti, come il cinestyle, a quelli con colori più vivi per avere maggior range dinamico. Controllare in rete se sono disponibili aggiornamenti o firmware dedicati per aumentare il controllo della propria camera. Io ad esempio nella Xiaomi ho modificato il firmware semplicemente scrivendo un file di testo all'interno della scheda SD che aumenta di gran lunga le potenzialità del dispositivo. Stessa cosa per le DSLR Canon. Sono disponibili dei firmware dedicati, Magic Lantern, che, anche se non supportati ufficialmente da Canon, danno accesso a moltissimi parametri importanti della camera. Il settaggio dei parametri di una videocamera dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di videocamera, le condizioni di ripresa e l'effetto desiderato. Ecco una guida generale su come settare correttamente i parametri di una videocamera per ottenere un ottimo risultato. Modalità di esposizione Manuale M. Questa modalità ti offre il massimo controllo. Puoi regolare manualmente l'apertura del diaframma F-Stop, il tempo di esposizione, velocità dell'otturatore e l'ISO per ottenere l'esposizione desiderata. Priorità diaframma A-V-A. Imposta l'apertura e la videocamera regolerà automaticamente la velocità dell'otturatore per ottenere un'esposizione corretta. Priorità otturatore TV-S. Imposta la velocità dell'otturatore e la videocamera regolerà automaticamente l'apertura per un'esposizione corretta. Automatico P. La videocamera regola automaticamente sia l'apertura che la velocità dell'otturatore, ma puoi ancora influenzare l'esposizione tramite l'ISO. Influenza dei principali parametri. Apertura del diaframma F-Stop. L'apertura influisce sulla profondità di campo e sulla qualità di luce che entra nell'obiettivo. Una piccola apertura, numero F alto, ad esempio F16, crea una maggiore profondità di campo, mentre una grande apertura, numero F basso, ad esempio F2.8, crea uno sfondo sfocato. Scegli l'apertura in base al tuo stile e all'effetto desiderato. Velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore determina per quanto tempo il sensore cattura la luce. Velocità più veloce, esempio un millesimo di secondo, congella l'azione, mentre velocità più lente, ad esempio un trentesimo di secondo, creano effetti di movimento. Assicurati di avere una velocità dell'otturatore adatta alle condizioni di ripresa. Sensibilità ISO. L'ISO regola la sensibilità del sensore alla luce. Un ISO basso, 100-400, è ideale per condizioni di luce brillante, mentre un ISO alto, 800 o superiore, è utile in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, un ISO elevato può introdurre rumore nell'immagine. Bilanciamento del bianco. Imposta il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione. Ad esempio, usa il bilanciamento del bianco automatico per situazioni di luce variabile o imposta manualmente il bilanciamento del bianco se le condizioni sono costanti. Profili colore e stili immagine. Alcune videocamere consentono di selezionare profili colore o stili immagine che influenzano la saturazione dei colori e il contrasto. Scegli il profilo che si adatta al tuo stile e alle esigenze del progetto. Messa a fuoco. Assicurati che la messa a fuoco sia corretta. Puoi utilizzare la messa a fuoco manuale o automatica, a seconda della situazione. L'uso di una messa a fuoco manuale è spesso preferito per il controllo totale. Esposizione corretta. Utilizza l'istogramma e il monitor LCD per verificare che l'esposizione sia corretta. Evita zone sovraesposte, luminose, o sottoesposte, scure, nell'immagine. Frame Rate Seleziona la frequenza di fotogrammi desiderata, ad esempio 24 fps per il look cinematografico o 30 fps per video standard. La scelta dipende dal tuo progetto e dall'aspetto desiderato. Regola l'audio Controlla i livelli dell'audio e utilizza un microfono esterno se necessario. Assicurati che l'audio sia chiaro e pulito. Utilizza treppiedi o stabilizzatore. Per evitare l'effetto mosso, utilizza un treppiedi o un sistema di stabilizzazione quando necessario. Monitora costantemente la ripresa. Controlla regolarmente il tuo monitor per assicurarti che tutto sia in ordine durante la ripresa. Ogni situazione di ripresa può richiedere settaggi leggermente diversi. Quindi sperimenta e adatta i parametri in base alle tue esigenze specifiche. Pratica e familiarità con la tua videocamera sono fondamentali per ottenere risultati ottimi. Usare l'istogramma L'istogramma è uno strumento utile per verificare la giusta esposizione di un'immagine durante la ripresa. Ti fornisce informazioni dettagliate sull'intensità delle luce in una scena e può aiutarti a evitare sovraesposizioni o sottoesposizioni. Ecco come utilizzare l'istogramma per verificare la giusta esposizione. Visualizza l'istogramma La maggior parte delle videocamere digitali e fotocamere consentono di visualizzare l'istogramma direttamente sullo schermo LCD. Assicurati di abilitare questa opzione nelle impostazioni della tua videocamera. Comprendere l'istogramma L'istogramma è un grafico a barre che rappresenta la distribuzione dei livelli di luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta i livelli di luminosità, dalle ombre più scure, sinistra, alle luci più luminose, destra. Mentre l'asse verticale rappresenta la quantità di pixel a ciascun livello di luminosità. Verifica l'istogramma durante la ripresa. Mentre stai riprendendo, osserva l'istogramma sullo schermo. Assicurati che le barre dell'istogramma non si estendano troppo verso sinistra, ombre troppo scure, o troppo verso destra, luci troppo luminose. L'obiettivo è avere un istogramma che copra la gamma dinamica della tua scena senza estendersi troppo ai bordi. Regola i parametri in base all'istogramma Se l'istogramma mostra una sovraesposizione, barre che toccano il lato destro, dovresti ridurre l'apertura del diaframma, aumentare la velocità dell'otturatore, o abbassare l'ISO. In caso di sottoesposizione, barre che toccano il lato sinistro, fai l'opposto. Aumenta l'apertura, riduci la velocità dell'otturatore, o aumenta l'ISO. Valuta l'istogramma dopo la ripresa. Dopo aver catturato l'immagine, verifica nuovamente l'istogramma sullo schermo. Assicurati che sia bilanciato e che non ci siano picchi o cadute eccessive ai bordi. Sii consapevole del tipo di scena Ricorda che l'istogramma ideale può variare in base al tipo di scena. Ad esempio, una scena notturna avrà un istogramma con molte ombre, mentre una scena di neve potrebbe avere un istogramma con molte luci. Usa l'istogramma insieme all'anteprima dell'immagine Osserva sempre l'istogramma in combinazione con l'anteprima dell'immagine sullo schermo. L'istogramma è un strumento obiettivo, ma l'aspetto visivo dell'immagine è importante quanto la rappresentazione grafica. Pratica e sperimenta La pratica è fondamentale per imparare a leggere e interpretare correttamente l'istogramma. Sperimenta con diverse impostazioni per ottenere la giusta esposizione in base alle tue esigenze creative. L'istogramma è uno strumento potente per garantire una corretta esposizione nelle tue riprese. Ma ricorda che ci sono situazioni in cui un'immagine con un istogramma apparentemente sbagliato può essere artistica o intenzionale. Adatta sempre il tuo utilizzo dell'istogramma al contesto della tua ripresa. La regola dei 180 gradi La regola dei 180 gradi è un concetto fondamentale nella cinematografia e nella produzione video che collega il frame rate e la shutter speed, velocità dell'otturatore. Questa regola è cruciale per ottenere riprese fluide e realistiche in un film o video. In questa relazione esploreremo in dettaglio la relazione tra fps e shutter speed, basata sulla regola di 180 gradi. Frame rate Il frame rate, misurato in fotogrammi al secondo, rappresenta la quantità di immagini fisse o fotogrammi visualizzati al secondo in un video. Il frame rate influisce sulla percezione del movimento all'interno di una ripresa. Ad esempio, i video ad alta velocità di frame rate, come 60 o 120, producono riprese molto fluide e dettagliate, mentre i video a basso frame rate, come 24 o 30, producono un aspetto più cinematografico e leggermente meno realistico. Shutter speed Velocità dell'otturatore La shutter speed o velocità dell'otturatore rappresenta la durata per cui l'otturatore della telecamera rimane aperto per catturare la luce durante la registrazione. Una shutter speed più rapida, espressa in frazioni di secondo, ad esempio un millesimo di secondo, cattura l'immagine in un periodo molto breve, riducendo il movimento e creando immagini nitide. Al contrario, una shutter speed più lenta, ad esempio un trentesimo di secondo, lascia l'otturatore aperto più a lungo, catturando il movimento e creando un effetto di sfocatura, noto come motion blur, regola di 180 gradi tra fps e shutter speed. La regola dei 180 gradi stabilisce che la shutter speed dovrebbe essere il doppio del frame rate per ottenere un aspetto naturale e cinematico nell'immagine. In altre parole, se stai registrando a 24 fps, la shutter speed ideale sarebbe un quarantotesimo di secondo. Il valore più vicino disponibile in molti dispositivi è un cinquantesimo di secondo. Questo assicura che ogni frame catturi il giusto quantitativo di movimento, producendo un effetto di motion blur realistico, simile a quello che vediamo nell'occhio umano. Questa regola è basata sulla pratica cinematografica tradizionale e ha dimostrato di essere efficace nel creare un aspetto cinematografico e piacevole per il pubblico. Tuttavia, è importante notare che nelle situazioni in cui si desidera ottenere effetti particolari, come riprese ad alta velocità, effetti di rallentamento o stili visivi unici, è possibile violare la regola di 180 gradi per ottenere risultati diversi. Ad esempio, abbassando la shutter speed rispetto al frame rate, si otterrà un motion blur più evidente, che può essere utilizzato per dare un senso di velocità o dinamicità a una scena d'azione. In conclusione, la regola dei 180 gradi è una guida importante per ottenere riprese video realistiche e cinematiche. La relazione tra il frame rate e la shutter speed è essenziale per controllare il motion blur in una ripresa e per garantire che il video abbia l'aspetto desiderato. Tuttavia, è importante anche saper adattare questa regola alle esigenze creative specifiche di ogni progetto. Voice over L'uso del voice over o doppiaggio vocale è una tecnica comune nell'industria cinematografica, televisiva, radiofonica e nei progetti multimediali. Il voice over può essere utilizzato per scopi narrativi, esplicativi o promozionali e spesso coinvolge l'aggiunta di una voce fuori campo per commentare, spiegare o arricchire il contenuto visivo o audio. Software libero per il voice over Esistono diverse opzioni di software libero che possono essere utilizzate per creare voice over. Tra le più popolari vi sono Audacity Audacity è un software open source per l'editing audio ampiamente utilizzato. È disponibile su diverse piattaforme ed è molto flessibile. È possibile registrare, modificare e mixare tracce audio con facilità. Audacity offre inoltre numerosi effetti e filtri che possono essere utilizzati per migliorare la qualità del voice over. Ardour Ardour è un'applicazione open source per la produzione audio e la registrazione multitraccia. È più orientata verso il lavoro in studio e la produzione musicale, ma può essere utilizzata per registrare e modificare voice over in modo professionale. Ossin Audio Ossin Audio è un'applicazione di editing audio open source che offre un'interfaccia utente intuitiva e strumenti per il montaggio di file audio. È particolarmente adatto per progetti di voice over grazie alla sua semplicità d'uso. Fasi del processo di voice over Per creare un voice over utilizzando software libero è necessario seguire diverse fasi. Sceneggiatura Prima di iniziare a registrare il voice over è importante preparare uno script accurato che delinei ciò che deve essere fatto. Una buona sceneggiatura aiuterà a mantenere il voice over coerente e ben strutturato. Registrazione Utilizzando il software libero di tua scelta, registra il voice over. Assicurati di avere un microfono di buona qualità e di registrare in un ambiente privo di rumori indesiderati. Modifica e miglioramento Dopo la registrazione, utilizza il software per tagliare, correggere, aggiungere effetti e migliorare la qualità audio del voice over. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un risultato professionale. Sincronizzazione Nel caso in cui il voice over debba essere sincronizzato con elementi visivi, come in un video, assicurati che i tempi siano perfetti per garantire una corretta coincidenza tra l'audio e l'azione. Esportazione Infine, esporta il voice over in un formato adatto per il tuo progetto, come MP3, WAV o altri formati audio comuni. Legalità e diritti d'autore È importante tenere presente che quando si utilizza software libero per il voice over, si dovrebbero rispettare le leggi su copyright e ottenere le autorizzazioni necessarie per l'uso di qualsiasi contenuto protetto da copyright, come musica di sottofondo o effetti sonori. In conclusione, l'uso del voice over attraverso software libero è una soluzione economica e altamente personalizzabile per aggiungere narrativa, spiegazioni o commenti ai tuoi progetti multimediali. La scelta del software libero ti dà il controllo creativo e la flessibilità necessarie per ottenere risultati di alta qualità senza dover investire in costosi software proprietari. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai dettagli e rispettare le leggi sul copyright durante l'utilizzo del voice over nei tuoi progetti. Microfoni per il voice over La scelta di un buon microfono per voice over a un prezzo accessibile può essere una sfida, ma ci sono diverse opzioni economiche di buona qualità sul mercato. Ecco alcuni dei migliori microfoni economici per voice over. Audio tecnica ATR2100 Questo microfono dinamico è una scelta eccellente per i voice over, offre una buona qualità del suono ed è versatile in quanto può essere collegato a computer tramite USB o utilizzato con una connessione XLR. Inoltre è un prezzo competitivo. Blue Snowball Eyes Il Blue Snowball Eyes è noto per la sua facilità d'uso ed è un microfono USB molto popolare tra i podcast e i creatori di contenuti. Offre una buona qualità audio per il prezzo e richiede una semplice configurazione plug and play. Samsung C01U Pro Questo microfono a condensatore USB offre un suono chiaro e nitido ed è una scelta popolare tra i principianti nel voice over. Ha un costo accessibile ed è compatibile con la maggior parte dei software di registrazione. Fafine K669B Il Fafine K669B è un microfono USB economico che offre prestazioni sorprendenti per il prezzo. Ha una buona sensibilità e una qualità audio sufficiente per molte esigenze di voice over. Tonor Q9 Questo è un altro microfono USB economico con una buona qualità audio per le registrazioni vocali. E' facile da configurare e utilizzare, rendendolo una scelta popolare tra i principianti. CAD U37 Il CAD U37 è un microfono a condensatore USB che offre un suono di alta qualità e una risposta in frequenza equilibrata. E' un'opzione economica che è stata ben accolta da molti registri vocali. Behringer XM8500 Se preferisci un microfono dinamico XLR, il Behringer XM8500 è un'opzione economica ma di qualità. Ha una buona sensibilità e un suono pulito ed è spesso utilizzato per il voice over e registrazioni di podcast. Blue Yeti Per dovere di cronaca cito lo Blue Yeti, forse microfono di fascia bassa più usato da semiprofessionisti e appassionati. Ricorda che oltre al microfono la qualità del suono dipende anche dalla tua acustica ambientale e dalla tecnica di registrazione. Un ambiente tranquillo e ben insonorizzato, insieme a un supporto per microfono e un filtro anti pop up, possono migliorare notevolmente la qualità del tuo voice over. Scegli il microfono che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo budget e ricorda di fare delle prove per ottenere la miglior qualità audio possibile per le tue registrazioni vocali. Non-liner editing system Breve descrizione degli editor video non lineari A differenza del montaggio video che veniva eseguito sulla pellicola cinematografica, che consisteva nel tagliarla e unirla fisicamente per togliere le riprese in eccesso, montaggio lineare, il montaggio non lineare non esegue alcuna modifica al materiale originale, perché si avvale di una coppia di esso. Requisiti hardware Chi usa software di editing video sa perfettamente che le risorse hardware non sono mai abbastanza e mi riferisco a CPU, GPU se supportata, RAM, Drive, quindi hard disk, SSD, M.2, schede di acquisizione, monitor, display, monitor audio, cuffie, microfoni. I vari software di editing video forniscono sempre i requisiti minimi per un uso basilare. Nel caso di Cadent Live sono i seguenti Sistema operativo Windows 7 a 64 bit o superiore Apple Mac OS 10.15 o superiore e su M1 Linux a 64 bit CPU Intel o AMD x86 Almeno un core a 2 GHz per i video con definizione standard 4 core per quelli ad alta definizione 8 core invece per i video in 4K GPU OpenGL 2.0 che funzioni correttamente e che sia compatibile In Windows puoi anche usare una scheda con dei buoni driver compatibili con DirectX 9 o 11 RAM Almeno 4 GB per i video con definizione standard 8 GB per quelli ad alta definizione 16 GB invece per i video in 4K Ci tengo a precisare che non sempre i software riescono ad utilizzare al 100% le risorse che trovano a disposizione. Quindi non è detto che avere una workstation con 128 GB di RAM possa essere più performante di una con 32 GB. Quanto meno la differenza di prezzo spesso non ripaga le prestazioni. Per quanto riguarda la CPU è sufficiente fare una prova di esportazione e controllare dalle risorse del computer l'utilizzo dei vari core. Alcuni software li utilizzano al 100%, altri no. La differenza di esportazione in questione di tempo può essere notevole. Altro particolare da non sottovalutare è la tecnologia usata per generare le anteprime nella timeline. Alcuni software risultano utilizzabili in modo fluido anche senza la necessità di una clip proxy. Questo riduce notevolmente i tempi di conversione e lo spazio su disco utilizzato. Altro aspetto da non sottovalutare mai è la velocità dei drive in lettura e scrittura e delle relative porte nel computer. Mai possibilmente leggere i file del girato da diskipata o SATA magari connessi a porte USB, ma fornirsi di drive M2 che assicurano velocità in lettura e scrittura anche 10 volte superiori rispetto ad un tradizionale SSD su SATA. L'ottimizzazione sull'uso delle GPU nei software di editing video open source non può certo dirsi al top. Controlla se la tua scheda video è compatibile ed installa le accelerazioni proprietarie per sperare di poterne fare uso. Corazza il tuo computer con quanta più RAM possibile, preferendo quella più veloce. Differenze tra licenza e software Free software o software libero Il software libero è un software pubblicato, rilasciato, sotto i termini di una licenza di software libero che ne concede lo studio, l'utilizzo, la modifica e la redistribuzione grazie all'utilizzo di particolari licenze software. Open source In informatica il termine inglese open source, cioè sorgente aperta, viene utilizzato per riferirsi ad un tipo di software o al suo modello di sviluppo o distribuzione. Un software open source è reso tale per mezzo di una licenza attraverso cui i detentori dei diritti ne favoriscono la modifica, lo studio, l'utilizzo e la redistribuzione. Caratteristica principale dunque delle licenze open source è la pubblicazione del codice sorgente, da cui il nome. Il fenomeno ha tratto grande beneficio da Internet perché esso permette ai programmatori distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto. Freeware Il termine freeware è una categoria di software proprietario il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito. Freemium Quando un servizio è gratuito ma alcune funzionalità sono bloccate o non accessibili senza un compenso. Pubblico dominio Questa categoria di software non è soggetta a copyright. L'autore, con la dichiarazione da rilascio del suo software al pubblico dominio, rinuncia esplicitamente a qualsiasi diritto in merito. Molto spesso il software distribuito in public domain include i sorgenti o è composto esclusivamente da file sorgente, snippet, template, librerie, piccoli framework. Il freeware, al contrario, è tutelato da diritti dell'autore originario. Abandonware Rientra in questa definizione il software commerciale che non viene più venduto da lungo tempo ed è quindi considerato abbandonato. La licenza originaria di questo software, di solito, essendo di tipo commerciale, proibiva la ridistribuzione o richiedeva un pagamento di qualche tipo. Il termine abbandonware viene anche utilizzato come modo alternativo per indicare un software originariamente commerciale che è stato successivamente ed esplicitamente distribuito come freeware o public domain. Molte software house, inoltre, hanno l'abitudine di distribuire gratuitamente versioni obsolete del loro software, spesso in abbinamento con riviste specializzate, al fine di promuovere l'acquisto di nuove versioni con sconti ed incentivi sotto forma di aggiornamento software. Tali versioni gratuite, contrariamente allo shareware, sono dotate di tutte le normali funzionalità e sono da ritenersi a tutti gli effetti regolarmente licenziate, salvo clausole specifiche esplicitamente riportate nella documentazione allegata. Cardware Questo tipo di software è essenzialmente freeware. L'autore però richiede la cortesia di spedirgli una cartolina, in inglese postcard, di ringraziamento. Ovviamente questo tipo di compenso è del tutto facoltativo. Questo meccanismo, molto più diffuso in passato rispetto ad oggi, ricalca la filosofia dello scambio di QSL in voga tra i radioamatori. Shareware In informatica, lo shareware è un tipo di licenza software molto popolare sin dai primi anni 90. Vengono distribuiti sotto tale licenza in genere programmi facilmente scaricabili via internet o contenuti in CD e DVD, quasi sempre allegati alle riviste di informatica in vendita in edicola. Il software sotto tale licenza può essere liberamente ridistribuito e può essere utilizzato per un periodo di tempo di prova variabile, generalmente 30 o 60 giorni. Scaduti questi termini, per continuare ad utilizzare il software è necessario registrarlo presso la casa produttrice, pagandone l'importo. All'avvio dell'applicazione shareware, generalmente un NARG screen informa l'utente su come effettuare la registrazione e sulle condizioni di utilizzo. Proprietario Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero o closed source, è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come lo studio, la modifica, la condivisione, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o, in caso di cessione dei diritti patrimoniali, il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza a regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti. Materiale scaricabile ed utilizzabile È importante notare che la condivisione o il download di materiale video e audio da fonti non autorizzate può violare il diritto d'autore e potrebbe essere illegale. Tuttavia ci sono alcune risorse che offrono materiale video e audio sotto licenze Creative Commons o che consentono il download gratuito di contenuti legalmente. Assicurati di rispettare i termini e le condizioni d'uso di queste risorse. Ecco una lista di siti dove è possibile trovare materiale video e audio gratuito. Materiale video Vimeo Molti utenti caricano video sotto licenza Creative Commons su Vimeo, che permette il download gratuito di tali contenuti. Internet Archive Internet Archive Internet Archive offre un vasto archivio di video gratuiti, tra cui film, spettacoli televisivi, documentari e altro, spesso con licenze Creative Commons. Pexels Video Pexels Video fornisce una raccolta di video gratuiti e royalty free, adatti a progetti personali e commerciali. Videvo 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 offre una vasta libreria di video gratuiti, con opzioni di download ad alta risoluzione, anche per scopi commerciali. Cover Cover è una fonte di video di qualità professionale per sfondi di siti web e altri progetti, tutti gratuiti e pronti per il download. Prelinger Archives Contiene materiale video di pubblico dominio o Creative Commons, coprendo ogni soggetto immaginabile. Wikimedia Commons Progetto fratello di Wikipedia, con video di pubblico dominio e Creative Commons. Tiora Videos Lista di siti dai quali si possono scaricare video codificati in Tiora Feel Fried Offre una collezione di clip HD utilizzabili liberamente. Materiale audio Free Music Archive Free Music Archive offre una vasta selezione di musica e suoni gratuiti, spesso sotto licenza Creative Commons. Jamendo Jamendo è una piattaforma di musica con una vasta collezione di brani gratuiti da artisti indipendenti, disponibili per scopi personali e commerciali. Incomptech Incomptech è un sito di musica royalty free creato dal compositore Kevin MacLeod. È possibile utilizzare la sua musica gratuitamente, ma dovresti fornire l'attribuzione appropriata. Audionautix Audionautix offre musica gratuita di Kevin MacLeod con opzioni di licenza Creative Commons. Richiede anche attribuzione. Sissimixter Sissimixter è una comunità di musicisti e produttori che condividono musica sotto licenze Creative Commons, consentendo il download e la riutilizzazione gratuita. The Free Sound Project Un database collaborativo di effetti sonori Creative Commons, suoni non musiche. Laptop.org Collezione di campioni sonori mirati all'OL PC Magnatune Etichetta online che mette a disposizione le opere dei suoi artisti in MP3 con licenza Creative Commons per uso strettamente non commerciale. On Classical Bottica online di musica classica con campioni Creative Commons in MP3 Wikimedia Commons Progetto fratello di Wikipedia con suoni Creative Commons o di pubblico dominio Beat Peek Beat Peek Musiche OGG, WAV o MP3 disponibili con licenza Creative Commons solo per uso non commerciale. Enomolo Etichetta per musica originale, in tutti i sensi, rilasciata con licenza Creative Commons per uso non commerciale. Homework Records Etichetta di musica elettronica che offre musica Creative Commons gratuitamente. Immagini Ansplash Ansplash è una popolare fonte di immagini di alta qualità e completamente gratuite, con una vasta varietà di categorie. Pexess Pexess offre immagini gratuite di alta qualità e royalty free, che possono essere utilizzate per scopi personali e commerciali. Pixabay Pixabay è un ampio archivio di immagini, video e musica gratuiti. È un'ottima risorsa per tutti i tipi di media. Gratisography Gratisography offre una collezione di immagini uniche e creative, completamente gratuite per uso personale e commerciale. Flick Creative Commons Su Flick puoi cercare foto sotto licenze Creative Commons che consentono il download e l'uso gratuito, ma è necessario rispettare le condizioni specificate dall'autore. Ricorda sempre di leggere attentamente le condizioni d'uso e le specifiche licenze associate a ciascun contenuto che scarichi e utilizzare in conformità con le disposizioni della licenza. Rispettare i diritti d'autore e le leggi sul copyright è fondamentale per un utilizzo responsabile del materiale video e audio. Software Video Editing Open Source Ecco una lista di principali software open source disponibili in ordine alfabetico. Avidmux Blender VSE Cinellera GG Flow Blade Caden Live Lives Olive Open Shot PTV Cinellera GG Shortcut VIRT Catter Installazione del software Per installare Caden Live in GNU Linux possiamo procedere in diversi modi. Installare dai repository, Flatpak, Snap o AppImage. Installare da Flatpak Installare da Flatpak Seguire le semplici istruzioni per raggiungere i repository FlatHub per la propria distribuzione da questa pagina. Quindi installare il software direttamente da questo link Oppure dal terminale con Flatpak install FlatHub.org.kde.kadenlive Avviare da AppImage Per avviare da AppImage basta portarsi a questa pagina e scaricare la versione che si preferisce, cambiare i permessi di esecuzione facendo clic destro sul file proprietà, consenti esecuzione, quindi doppio clic per avviare il software che chiederà di configurare un collegamento d'avvio e rispondere sì. A quel punto troveremo il lanciatore tra le applicazioni. Installare da Snap Per installare Caden Live da Snap, seguire le istruzioni per la propria distribuzione presenti in questa pagina. Installare in Windows 10 Scaricare il file di installazione da questa pagina Fare doppio clic per estrarre il file E lanciare il programma dall'eseguibile CadenLive.exe Situato nella directory BIN Per che creare il file di installazione Qualcetta istrata della pagina La pagina Ricorica Ricorica Qualcetta Grazie a tutti